Siamo con Lavinia Biagiotti, le voliamo solamente chiedere un commento riguardo questa splendida serata. È stata una grande emozione per me uscire in Passarella, lo è sempre, ma questo Campidoglio con il restauro della De Roma voleva essere una goccia di futuro e ho sentito questa energia di rinnovamento che la nostra città sta esprimendo e sono felice con un piccolo contributo di poterne fare parte. Grazie.